Ci sono stati un po' di casi ridimensionati di natura diversa, a cominciare da Kayekon che lei ha allontanato dal ritiro l'altro ieri, poi dall'esclusione abbastanza sorprendente anche nei modi di Berami e di Gemaili, l'impressione è che lei sia un po' cambiato quest'anno, che non faccia più sconti a nessuno, che al di là dell'aspetto e della disponibilità che ha sempre con tutti stia usando un atteggiamento un pochino più duro, un pochino più rigido, le chiedo perché e se mi può spiegare questi tre casi. Chiaramente no, credo che tu l'hai detto, si è saggerato un po', è stato sempre difficile perché non hanno tante notizie, si deve creare un po' di casino, cose che sono normali. Io all'inizio, se lo avete visto, ho parlato con Gemaili, ho parlato con Berami, ho parlato con Vargas, tutti questi che hanno arrivato più tardi della sua situazione, come erano, hanno lavorato normalmente. Ieri, ho spiegato, se l'ha detto Nicola, ieri erano quattro centrocampisti, non aveva senso avere di più perché è un momento di darle almeno 45 minuti a quasi tutti i giocatori. Non aveva senso, l'abbiamo lasciato là, è arrivato Petkovic, l'allenatore adesso della Suizzera, che mi ha chiesto per parlare con loro, ho parlato con loro, cose normali che dopo si hanno dimensionato in un'altra maniera. Anche, e devo dire, ho parlato ieri mattina con Berami, che lui era sorpreso perché io le ho detto a Berami l'altro giorno, a Berami, a Gemaili e a Duban, potete andare dentro o potete rimanere qua per il cross, la sfida con i portieri del cross che abbiamo fatto l'altro giorno lo stesso. Lui ha detto, io vado dentro, ha fatto così, ha lasciato la casaca, ma aveva il permesso mio, non era un caso. Oh, un caso, va, dobbiamo creare un caso, va bene, ma non è così. E anche Callejón, che era chiaro che le mancava l'intensità a questo punto, no, perché ha problemi con Callejón, nessun problema con José, uno che io ho portato qua, che ho detto sempre che doveva andare alla Nazionale Spagnola, che ho detto che va a fare 15-20 reti e che dopo, abbiamo visto ieri, che è un giocatore che lavora, non è nessun caso. Dobbiamo creare un caso perché, chiaramente, qualche squadra ha fatto un'offerta importante per lui, noi abbiamo detto di no e basta, e qualcun giornale inizia a fare un po' di rumore. Nessun caso, Callejón è un bravo ragazzo, un giocatore di massimo livello che ancora può crescere con noi e non è in vendita. Quindi è sempre lo stesso Benitez? Più o meno, qualche volta ho detto che qualche volta mi devo arrabbiare, se non mi piace qualcosa, ma è lo stesso per ogni partita, per ogni settimana, per ogni giorno. In questo caso, perché è successo così, tutti aspettavano vedere qualcosa. Ripeto, Verami è stata una cosa incredibile, perché io le ho detto, puoi andare dentro, e Zema e Dubami hanno detto, no, noi restiamo a posto, caso Verami. Callejón è lo stesso, uno che io ho portato qua e che parlo con lui, venti volte, non ha un buon rapporto, non è vero. Alì, su Verami è veramente incredibile. No, e anche Callejón, perché io sono sorpreso in España, un giornale ha scritto un caso, e tutto era una uglia.